Buongiorno a tutti, è il caso di dire buongiorno perché è proprio mattina, di solito non filmo mai la mattina così presto, ma siccome ho deciso di fare il What I Eat In A Day, sto facendo colazione e ho filmato mentre preparavo la colazione, infatti adesso mi mangerò questo toast con le fragoline, insomma adesso vi spiegherò tutto quanto. Quindi oggi filmerò tutte le cose che cucino, quindi colazione, merenda, pranzo, cena, tutto. E niente, spero che questo What I Eat In A Day Spring Edition vi piaccia, se è così lasciate un pollice in su e niente, vi lascio al video. Allora, per colazione mi sono preparata questi toast semplicemente mettendoli in padella, poi sopra gli ho messo il miele, mi piacciono un sacco i mieli, quelli così da spruzzare, li trovo molto pratici. E poi semplicemente ho tagliato sopra le fragole molto molto sottili, è un abbinamento miele e fragole che mi piace tantissimo, ma vi è sicuro che sono buonissime anche con nutella e fragole, però è quello magari non tutti i giorni. E poi mi sono fatta un tè, io al tè è veramente difficile che rinuncio, e ho messo un pochino di frutta secca, questi qua sono i mix già pronti, che danno un sacco di energia. Ed ecco, questa è stata la mia colazione di oggi, e di solito quando faccio colazione mi piace insomma iniziare a guardare le mail, le cose, oppure qua ero al telefono con mia nonna, insomma faccio un po' di telefonate, controllo un po' di cose, insomma cerco di iniziare la giornata nel modo insomma più bello possibile. Poi ovviamente ci sono giorni in cui insomma non si ha tutto questo tempo, quindi la colazione è anche più veloce, mi bevo un tè con i biscotti e via. Di solito a metà mattina, magari prima di pranzo, circa mezz'ora prima, un'oretta prima, faccio anche uno spuntino con la frutta, così non arrivo a pranzo super affamata, e siccome avevo tagliato le fragole la mattina, ho mangiato insomma un po' di fragole. Poi per pranzo era un po' di tempo che volevo provare a fare il riso venere, quello nero, e veramente questa ricetta è buonissima, è facilissima da fare, io sono imbranata in cucina e vi dico che è venuta buona, quindi provate anche voi. Allora, ho messo a bollire l'acqua, un bel po' d'acqua, poi ho tagliato a striscioline sottili il salmone e anche i pomodorini, li ho tagliati in quattro, circa una manciata di pomodorini, e ho messo tutto da parte. Nel frattempo ho fatto bollire l'acqua, l'ho salata, e prima di inversare il riso l'ho sciacquato sotto l'acqua, così insomma perde l'amido mi sembra, ho visto che bisognava sciacquarlo, l'ho sciacquato, e poi ho versato il riso nella pentola, e ci mette circa una decina di minuti a cuocere. Nel frattempo in una padella ho messo l'olio con la cipolla tagliata sottile e i pomodorini, e per 3-4 minuti ho fatto saltare i pomodorini con l'olio e la cipolla. Dopodiché, quando i pomodorini hanno iniziato ad essere un po' cotti, ho aggiunto il salmone, e questo praticamente bisogna farlo cuocere finché non cambia colore, appena diventa un po' più rosato, è cotto. A questo punto spegniamo la padella e andiamo a tagliare l'avocado, basta insomma tagliarlo a cubettini abbastanza piccolini, questo non va cotto. Nel frattempo il riso invece si è cotto e andiamo a scolarlo e poi lo buttiamo nella padella. insieme al nostro condimento e mescoliamo bene il tutto. Dopodiché andiamo come ultimo passaggio ad aggiungere l'avocado a crudo e anche i semi di lino, ed ecco qua il nostro riso venere con salmone, avocado e pomodorini, che è veramente buonissimo, a me è piaciuto un sacco, penso lo farò un sacco di volte quest'estate, anche quando si va in piscina così, perché è fresco, veloce, saporito. Insomma, fatemi sapere nei commenti se provate a rifarlo. Per merenda, io e la mia sorellina abbiamo preparato dei muffin vegani, perché avevo un preparato che non avevo ancora utilizzato, che è al cacao e nocciole, e devo dire che sono venuti buonissimi. Ma siccome questo preparato magari non ce l'avete, vi dico anche gli ingredienti del preparato, così potete farlo anche voi. Basta mettere in una ciotola 250 g di farina 0, 10 g di lievito, 50 g di cacao amaro in polvere, 60 g di nocciole in granella. Aggiungiamo poi 30 g di olio di semi, 120 g di zucchero di canna e il latte di riso, quanto basta finché il composto non diventa omogeneo. Si può mettere anche il latte normale, se non volete farlo diciamo vegano, o il latte di soia. E devo dire, è veramente facilissimo, una volta che si frulla tutto il composto viene bello omogeneo, si versa negli stampini, noi l'abbiamo messo anche in una teglia, così abbiamo fatto tipo dei cubotti. Abbiamo infornato il tutto a 180 gradi per 15 minuti e devo dire, sono venuti veramente buonissimi. Abbiamo mangiato con il tè delle 5 e anche il giorno dopo a colazione super buoni. Per cena mi sono arrangiata con quello che avevo in casa, ho fatto degli spaghetti con il tonno e i peperoni. E per renderli più leggeri ho usato la pasta, quella senza glutine, e i peperoni ho eliminato tutto il bianco, quindi tutti i filamenti, semini, parti bianche. Io di solito se elimino tutta questa parte bianca dei peperoni, li digerisco benissimo, non mi stanno pesanti, però è anche soggettivo forse, c'è chi non li digerisce, quindi non lo so. Quindi ho messo in una padella uno spicchio d'aglio con un po' d'olio, poi questo andrà tolto, ho aggiunto i peperoni e per farli cuocere ho aggiunto un bel bicchiere di acqua. E li ho lasciati cuocere per una decina di minuti, finché non diventano belli morbidi. E poi una volta cotti vado a mettere nel frullatore il tonno, una parte dei peperoni, non tutti, quelli una volta cotti questo, mi raccomando. E poi un po' di pepe, un goccio d'olio e sale e sono andata a fare una cremina di peperoni e tonno praticamente. Con questo sugo andiamo a condire la pasta e aggiungiamo anche il resto dei peperoni che avevamo tenuto da parte. Ed ecco qui i nostri spaghetti, a me sono piaciuti tantissimo. Spero tanto che questo What I Eat In A Day Spring Edition vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritte. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Vado a lavare i piatti, ciao! 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 Ciao!